Ehi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui con me su Distraction Atlas. Episodio moderno, appunto, un po' amaro perché siamo usciti dal torneo degli iscritti di Genoveffo, ai sedicesimi, contro un grandissimo avversario che ha giocato a viso aperto in maniera molto aggressiva, una partita che lo vedeva teoricamente sfavorito. Quindi l'episodio di oggi andrà a guardare gli aspetti appunto che hanno contribuito in negativo a questo mio insuccesso, che alla fine ragazzi, ve lo dico sinceramente, sono anche gli episodi migliori perché sono quelli in cui si impara qualcosa di nuovo, si impara dagli errori, si impara a non commetterli e soprattutto con questo modo di condividerlo su YouTube speriamo appunto che possa essere di lezione anche agli altri, quindi cercherò di analizzare in maniera molto analitica, in maniera molto oggettiva, quelli che secondo me sono stati gli errori che ho fatto. Allora innanzitutto partiamo dal discorso che come avete visto ho preso una espulsione al 41esimo che probabilmente ha influito perché appunto prima del secondo tempo eravamo 0 a 0, ho perso 2 a 0 quindi in maniera molto netta, ho preso anche due ammunizioni quindi sicuramente, e lui ha dominato il possesso poi, sicuramente ci sono degli errori di valutazione dal punto di vista dei contrasti relativi al pressing, allora lui è andato con un 4-3-3 a fasce e io invece di 4-3-3b fasce, io ero un 104, lui un 101, quindi ha fatto un grandissimo recupero rispetto al video di ieri per quanto riguarda il valore rosa perché era un 93 e ha fatto un grandissimo mercato quindi. Allora gli errori di valutazione, l'arbitro era giallo e io ho fatto appunto aggressivo, sicuramente con arbitro giallo, modulo sulle fasce, contrasti aggressivi, il pressing l'avrei dovuto far scendere di parecchio, ma veramente di parecchio a 60, probabilmente anche lo stile sarebbe dovuto essere sul 60 e il ritmo probabilmente anche questo sul 60 o anche meno del 56, però al di là dei settaggi che possono essere giusti sbagliati, secondo me l'errore di fondo che ho fatto è di presumere appunto di presunzione di arroganza, di hubris dal latino appunto di arroganza, dovevo sicuramente utilizzare un modulo che possa contrastare il 4-3 a fasce che secondo me a priori a giochi fatti sarebbe dovuto essere un 5-3-2 contropiede. Allora secondo me avrei dovuto mettere, ora che so appunto il risultato eccetera, avrei dovuto mettere un modulo molto diverso, molto più difensivo con 5 difensori, ovviamente indica sarebbe stato là perché insomma a parte l'espulsione e Mahmoud qua, quindi immaginatevi che al posto di Machado ovviamente, anzi al posto di Machado sì c'è appunto indica le due punte, 5-3-2, i settaggi ovviamente a contropiede, aggressivo assolutamente sì, poi avrei dovuto mettere magari centrocampisti a proteggere la difesa e poi appunto dei settaggi difensivi idonei al 5-3-2. Quindi giocandomela così probabilmente qualche speranzina in più ce l'avrei dovuto avere. Però si parla sempre appunto di a giochi fatti, come vedete 0-0 contro un 4-3-3-B perché il 4-3-3-B contrasta il 5-3-2. Vediamo se per caso becco qualcuno che usa il 4-3-3-A, se per caso lo becco sarebbe meglio, ancora meglio se becco appunto l'avversario di ieri, di ieri l'altro, che mi ha battuto e no non lo becco, pazienza. Vediamo un po' se qualcun altro gioca col 4-3-3-A. No, 4-4-2-B. Comunque sarei dovuto sicuramente andare con un modulo molto più difensivo. Usciamo quindi da questo torneo dopo appunto aver passato il turno al secondo posto. Faccio complimenti a tutti, a tutti quelli che sono ancora in gioco, c'è ancora tantissimo da giocare per voi. Grandissimi valori rosa di questi 5 qua davanti, noi chiudiamo il torneo al sesto posto come valori rosa. E quindi in bocca al lupo a tutti i partecipanti, grazie per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video ad anno nuovo. E buon anno, ciao!